Sono quattro tappe, si comincia dalla Sicilia occidentale e poi si conclude in questo straordinario set cinematografico che è appunto l'Etna. Saranno interessati decine di comuni, sono allertati, gli amministratori comunali sono qui oggi con noi a riconsacrare questo impegno, abbiamo migliorato pur non essendo nostra competenza la viabilità provinciale interessata, io credo che sarà ancora una volta una manifestazione di gioia, una festa popolare, ma anche la possibilità di riaffermare una tradizione, quella del ciclismo che in Sicilia ha radici antiche e popolari. È una grande e preziosa occasione per promuovere in Italia e all'estero un'altra immagine della Sicilia, non legata ai luoghi comuni, ma legata alla bellezza paesaggistica, culturale, artistica, monumentale di questa nostra isola e allo straordinario spirito di accoglienza dei siciliani. Si fa turismo, si fa sport, c'è bisogno di tornare a lavorare e a far reddito con gli operatori economici dopo due anni di pandemia, credo che siamo perfettamente in linea con le esigenze del nostro territorio. Saremo in una regione stupenda come la Sicilia e in nuovi, devo dire che da questo punto di vista il presidente Musumeci e l'assessore Messina hanno avuto una grande legge miranza di programmazione, quello di riuscire in questi anni a coprire l'intero territorio della Sicilia, credo che non ci sia rimasto fuori tra giro d'Italia e giro di Sicilia, nessun comune. Questo è fondamentale per raccontare il territorio, per raccontare il paese, per raccontare la biodiversità, per far vedere quanto è bello tra montagna e mare, perché partiamo dal mare e arriviamo sull'Etna che è una montagna vera. Io credo che sarà un grande giro, un grande giro di Sicilia con possibilità per tutti i campioni di potersi misurare, ci sono tappe per velocisti, ci sono tappe per passisti e c'è una tappa di montagna. Sport e turismo rappresentano un'asse portante per la nostra regione, continuiamo a investire in eventi come il Giro di Sicilia, il Giro d'Italia, penso al Festival Internazionale del Turismo Sportivo, prima edizione di un evento importantissimo che si svolgerà in Sicilia in collaborazione anche questo con il RCS, penso a tutto quello che abbiamo investito nello sport, nell'impiantistica sportiva. Noi riteniamo che lo sport debba essere sprone per i nostri concittadini, perché lo sport tiene in salute, ma deve essere anche strumento di promozione, perché in Sicilia si può fare sport 365 giorni l'anno.